Buongiorno, mi chiamo Enrico Gobetti, sono uno storico freelance, mi occupo di storia della Jugoslavia nel Novecento e da parecchi anni accompagno viaggi di turismo responsabile organizzati dall'Agenzia Viaggi Solidari di Torino nei Balcani, in particolare in Serbia e in Bosnia. Oggi, in occasione del giorno della liberazione, vorrei leggervi un brano tratto dal mio ultimo libro che riguarda la vicenda dei partigiani italiani che hanno combattuto in Jugoslavia durante la Seconda Guerra Mondiale. È una vicenda poco conosciuta, una vicenda a cui ho dedicato un libro e anche un documentario. Il libro è questo, La Resistenza Dimenticata, mentre il documentario si intitola Partisani. Ecco, è una vicenda che riguarda appunto 20.000 italiani soldati di occupazione che dopo l'8 settembre del 43 scelgono la Resistenza, scelgono di schialarsi a fianco dei partigiani comunisti di Tito per combattere contro il nusismo. Circa metà di questi nostri soldati moriranno durante l'esperienza partigiana. Una vicenda quindi particolarmente drammatica e ben poco conosciuta in Italia. A questo proposito vi leggo un brano che riguarda proprio il momento della scelta all'8 settembre del 1943. L'alba del giorno dopo è velata da una leggera nebbiolina. Comincia a far freddo la notte. Un po' di brina sulle canne dei pezzi. I cannoni brillano nella prima luce del mattino. L'alpino Tarcisio Perosin osserva la strada davanti a sé, i campi coltivati da entrambi i lati. Sente nell'aria l'odore della terra grassa. Viva! Sono le otto. In fondo al lungo rettilineo prima della curva appare qualcosa, come una polvere che si confonde con la nebbia che si sta alzando. Poi il sole fa capolino dalla collina e si riflette come uno specchio sul metallo di un autoblindo. Non ci sono dubbi. Una colonna motorizzata sta avanzando lungo la strada. Qualcuno dratta l'allarme. Tutti si agitano attorno ai cannoni. Il comandante ha gerato ordine di tenersi pronti. La colonna avanza in un gran polverone. Sono tedeschi! Grida qualcuno. Tedeschi? Domanda un altro stupito. Vanno a Portgoritz e vanno al comando! Dice qualcun altro. L'artigniere Terciseo Perosin infila il proiettile in canna. Poi accarezza il rosario che tiene nel taschino. Tega il fusil! Tega il canon! Ti ha detto la mamma prima di partire. Ma ricordati che la tua sola arma di difesa sarà questo rosario. Devi recitarlo tutti i giorni. La prima grazia l'ha già fatta quel rosario. Quando è tornato della licenza, la sua divisione era partita per la Russia e lui è stato trasferito alla taurinense. Fuoco! Grida il comandante. Io per primo ho sparato il primo colpo, scrive nel suo diario Perosin. Fuoco! Fuoco! La sesta batteria del tenente Perello è composta da cinque pezzi e sono cinque i colpi esplosi quel mattino. I primi spari contro l'alleato di prima. Sono le otto e un quarto del 9 settembre 1943. Il primo atto della resistenza italiana si compie quella mattina, alla periferia di Nixic, in Montenegro. Bene, buona lettura, buon 25 aprile. Alla prossima!